commentate qui sotto con marcatori e risultato esatto di napoli liverpool e inter bayern monaco a tutti quelli che indovineranno faremo lo screen e li andremo a ripostare sul nostro proprio instagram buona visione e vai col video qui stiamo per fare una cosa che non abbiamo mai fatto nella storia del nostro canale youtube obiettivamente mai mai successo motivo per cui raga qui veramente vogliamo vedere tutto il vostro supporto io vorrei arrivassimo almeno a 10 è impossibile ma non troppo in realtà 10.000 mi piace perché è un doppio pronostico gameplay se ce li lasciate preparatevi che lo rifacciamo così risolviamo il problema di non dobbiamo scegliere non dobbiamo scegliere ciao ragazzi ben ritrovati a tutti mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui nostri contenuti abbiamo un altro canale youtube di calcio e un canale extra calcio vi lasciamo tutto in descrizione i canali compariranno qui fai scaricare loro l'applicazione gratuita e più bella per seguire il mondo del calcio vi basterà passare sul link in descrizione ragazzi e correre a scaricare one football la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio io non vi ripeto più che cosa offre dovete vedere coi vostri occhi scaricatela è gratis siamo sicuri che non ve ne pentirete napoli liverpool e io con il napoli a pallettoni me la vado a giocare ti è dai che se comincia quanto finisce sta partita dimmelo mamma mia te posso battere 2 a 1 per me io rischio ancora 1 a 1 e vai sei pronto sì sì siamo a punti siamo a parte di una ma va fatto io abbattito così menne in dubbio ragazzi è lo bocca sto fio non è ma meno male mamma mia mamma mia papio no quara scheglia quara scheglia alison si oppone alison in angolo il tira giro ragazzi mamma che gli ha preso mamma lo si turn su assist di quara scheglia mamma mia 1 a 0 1 a 0 osi man con sta capo così ma non l'hanno l'hanno fatto che non l'hanno fatto non ci assomiglia per niente ma chi osi man no vabbè me giro e spiti plimplo mamma mia 1 a 0 interessante eh a centro area osi osi guarda che sinistro sì ma alison ce lo vado a mettere un po' meglio quelle mani osi non perdona vai mamma mia sarà ah oh 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 il napoli mamma mia sto avendo dei seri problemi il napoli sto avendo dei seri problemi non è ma chi è zienischi per lo meno mi sembra il numero di riconoscere sì sì assolutamente anche se assomiglia un po' a ili cicl però Sì Ancora Quaraschelia Non lo so Ancora Quaraschelia Non lo so 2 a 0 Mamma mia Ci ha messo 3 ore Ma che smanasciadio Mamma mia Non capivo chi c'era Se era uno mio o uno tuo Guarda la cosa ha aperto tutto Le praterie Mamma mia Alisson Ci ha messo le mani Finisce il primo tempo Sul punteggio di 2 a 0 Devo correre ai ripari Devi riparare parecchio Ma è stata equilibrata dei tiri Se guardi perfetto Dai tiri sembrerebbe Perfetto equilibrio Vai Niente di pericoloso No Mamma mia che parata Una parated De quelle esagerated Non capisco perché mi stanno così Quaraschelia Quaraschelia No è incredibile 3 a 0 Incredibile Quaraschelia Non ho capito nulla Sta partita Che golano c'ha la fascia Capitano che sembra un 80enne Però non ci fate caso Detto guardate Quaraschelia ragazzi Ma è tutto aperto Tutto completamente aperto Alisson Ma si è buttato così Poi lui è destro Senza manco Cioè Gli è passata davanti la palla Guarda È saltato Raspadori Sono due volte Che leva le mani Incredibile Ma vero Ma che Crea a 0 Questa è fuorigioco A casa Non è fuorigioco No Mi sarà buono Dai Suvappi a sta palla Dai E' DN E' DN Si è proprio lui E' Darwin Subentrato Da subentrato Hai capito il signore Vorrei capì come me l'hai fatto sto gol Spiti plin Eh Ho provato a buttare la palla a mezzo Veloce E' buono Buono L'ha fatto pure mezzo pallonetto O me sbaglio Si si Ho fatto pallonetto Vabbè Andiamo Mamma mia ragazzi Ma prendono manco un passaggio Ma che è sto Napoli Gli passa la palla a fianco Non la prendono Ma che cos'è sto Napoli Ma non ho capito E' una Mamma mia Che c'è in bocca Che è Che sta ardentista Sai Ragazzi ancora Non so se è stato Guaraschelia Chi è stato Raspadori Inbucata Niente È proprio Come se non ci fossero Come se non ci fossero Incredibile ma vero Sempre là me fermo Poi il suo che fa Eh Vabbè Vabbè ho capito Sì Vabbè Mamma mia È una partita storta Eh c***o Ce posso fare Cioè Oh Che mi sta mettere sotto Non ce sto a capire Più niente Sti ultimi Minuti di gioco Ti tiriririri Ti tiririri Ti tiririri Ti Oooo Orca miseria ho E ancora Tutto all'ultimo E finisce 4 a 1 Il primo pronostico Gameplay Ci vediamo tra pochissimo Per l'altro Gameplay Assolutamente Senza perderci troppo in chiacchiere Perché qua C'è poco da dire 8 tiri a 15 Doppio dei tiri Fina 4 a 1 Pazzesco Pazzesco A tra poco Eccoci siamo su Inter Bayern Monaco A me tocca l'Inter Perché l'ultima volta L'hai presa te Se non mi ricordo male Se non mi ricordo male A Milan Inter Ho preso il Milan Lui si sta sistemando Delle situazioni E niente Pronosticate Risultati esatti I marcatori Che ve le postiamo Su Instagram Vai Ecco eh Dai che c'è un attacco Lapido Vai Starfries Oddio Danfries Sulla destra E non era Danfries Danfries Il colpo di destra Danfries No lui Cadrossaro Ah Infatti dicevo Fatto ma Vabbè Vabbè Mamma mia Uscita te pochissimo Ragazzi No glielo c'era eh Oh A paperelle Dai E angolo eh Un'occasione per parti E angolo Senti come devo fare Per passarla Su qua la fascia De competenza Cambia fascia C'è ragione Non ci avevo pensato Popi Popi Ma che mai parato Mamma mia Noia la leva dalla porta Ma hai fatto una parata miracolosa Mamma mia la leva dalla porta Meno male Passaggio Ho preso la mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia noia Eh cattivo Troppo magari Mamma mia ancora Un po' più lungo Magari esce male il portiere Magari me la stop E posso tirare È mia È anche mia Per fortuna Sbarella Sbarella E forse in diagonale Putta mia Fatta autogol Mi raccomando Finisce sul punteggio di 0 a 0 Di 1 a 1 0 a 0 Andiamo al secondo Ma vediamo i tiri 7-3-3-3 In porta siamo pari Nello specchio cambia poco Andiamo avanti Sono stato pericoloso Pure io Appunto 0-0 bugiardo Doveva stare Meno 1 a 1 2 a 2 Ah no Pensavo Bugiardo Eccolo Ecco l'errore Maesanè Maesanè La patacca Eh che pari Che pari solo tu Ah bello Mannaggia Oh Eh Ma io non ce la posso fare 8 deviazioni Alla Fabio Che vergogna Mamma mia ragazzi Brutto l'autogol Brutto l'autogol Però qui Mannè fa una magia Eh non ci sono riuscito Sparisce tra due Sì ma non poi La devia Prima Devrai Poi bastoni E la palla Sì era devrai Era devrai Sì sì Prima devrai Poi Inbucata Glamorosis Se gira Eh là Non sono riuscito A stare Ieri 1 2 Sì vabbè ragazzi Purtroppo Eh sì Purtroppo Bastoni Vedi quello che devi fare Eh Un'altra bella Cappella di Eccolo La fatta La fatta La fatta La fatta La fatta Ma bastoni E' riconosciente La pressione Ma la pressione L'insiavolata Di Manè Ma che sta a fare Si fa le foto al pacco Io non c'ho parole Guarda La pressione Indiavolata Di Sadio Manè Ho fatto Retropassaggio Bastoni Ha fatto uno stop In più Ci ha messo Tre ore Esatto Ha fatto uno stop In più Che non doveva Assolutamente fare Tre ore In tempo E addirittura E addirittura Terzo Seconda Vai Azzio E so Due E so Due Ma che sta Attucca E vabbè E vabbè Allora Dillo E vabbè Allora Dillo Vai Che riparte L'azione E così Vai Coman Vai Kingsley Vai Kingsley Coman La patà La patà La patata Dezzi E finisce Due a zero Ragazzi Una partita Strecata Una partita Che per me Non è andata Come avrei voluto Nei tempi regolamentari Non si sa Quello che è successo Diciamo che nel secondo tempo Ho spinto Molto Io ho avuto Una difficoltà Di quelle pazzesche Una maria di mi piace Se rivolete Il doppio gameplay Commentate A tutti i canali Socialmente Iscrivete E contenuti Consigli Alla prossima Ragazzi Con un nuovo video Vabbè Ciao 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 Ciao